Allora, dimmi, dimmi! Allora, visto che non siamo riusciti ad arrivare in tempo perché ci siamo fatto una bella pasta italiana Com'era, com'era la pasta? Bella peggio! Allora, eravamo in quattro, quanta pasta è stata fatta? Chilo e mezzo Ripetilo! Chilo e mezzo Chilo e mezzo di pasta un po' del vino, tutto da vernelli, un po' un po' di grandissimo vino Lasciate stare il vino australiano Allora, noi abbiamo festeggiato il Capodanno correndo a mezzanotte Correndo, no? Ma siamo arrivati qua Però c'erano sicuramente le persone più spiegate di noi, no? Si, le persone più spiegate di noi erano quelli che erano posizionati qua Che erano posizionati qua Dove sono questi? Dispiti, pressati, che almeno dalle cifre al pomeriggio di oggi Ma perchè allora lo spiegate? Perchè? Non avevano stato d'animo di non camminare qua Bravo! Noi che eravamo gli ultimi della pila E invece siamo passati in mezzo a mezza monnezza di Sidney Ci siamo passati in mezzo all'immondezzaio Praticamente siamo andati dietro i segneritori di Sidney La Seabo di Sidney Per arrivare poi a vedere uno squarcio di cuochi Però non avevano stato d'animo giusto E quindi Ci siamo divertiti Ci siamo passati in mezzo alla spazzatura Ci siamo divertiti molto di più di quelli che erano qua davanti Degli spiegati Adesso li inquadro perchè vale la pena, no? Ci sono stanchissimo Il ponte col sole E noi prenderemo Una bella alba Scic-scic-scic E perchè abbiamo un spirito giusto E questo è quello che conta di più Buon dominato!